Siamo contenti per quello e per la grandissima vittoria di oggi, giocando da squadra e penso che lo meritavamo già di vincere. Le partite che abbiamo giocato qui non abbiamo avuto quella fortuna perché creiamo tantissime occasioni e non abbiamo vinto, ma oggi finalmente è arrivata la vittoria e sono contentissimo per quello. Bisogna dire che la Champions vi galvanizza, vi fa bene? No, penso che siamo andati in campo con quella voglia, quella determinazione di vincere e penso che abbiamo fatto quello che abbiamo lavorato un settimana, quello che ci ha detto il mister e quello è stato più facile per quello. Guanna, allora aveva ragione Conte che ti voleva qua già due anni fa? No, sono contento di essere qui e ora cerco giorno per giorno di lavorare per la squadra e dare il mio contributo. Senti, Guanna, il 4-3-3 è il tuo schieramento preferito, quello dove senti di esprimerti meglio? Abbiamo visto anche cercare tante volte il gol, ci sei andato vicino, però poi arriva. Sì, mi piace abbastanza perché posso essere un po' più vicino alla porta, magari andare più volte all'uno contro uno che sono le mie caratteristiche per sfruttarle, ma sono sempre a disposizione del mister, è un ruolo che lui vuole e io sempre sarò lì pronto per dare il meglio. Ma senti che bisogna alzare la testa anche in campionato? Sì, sì, sappiamo che oggi è bello vincere, ma già da domani dobbiamo pensare al campionato, noi siamo una grandissima squadra e sono convinto di quello e prima o poi ci metteremo nella corsa per lo scudetto. Io ci credo, tu non ci credi? Sì. Anche io, allora dobbiamo lavorare per questo e giocare tutte le partite come se fossero tutte una finale per avvicinare il più presto possibile. Grazie, grazie.